L'astronascente del grande centro a Sulmona si appresta alle primarie così come hanno fatto i partiti del centrosinistra. PSI, UDC, Sulmona Democratica e Rialzati Abruzzo dovrebbero scegliere il candidato sindaco attraverso la competizione delle elezioni primarie che dovrebbero tenersi la prima domenica di marzo. La decisione ufficiale sarà presa nella riunione che la coalizione centrista terrà l'inizio della prossima settimana. Nel frattempo ci sarebbero tre candidati pronti a competere. Sono il capogruppo consigliare del PSI, Luciano Marinucci, il consigliere comunale Mimmo Di Benedetto che fa capo agli ex Margherita e il presidente del consorzio per il polo universitario di Sulmona, Fabrizio Politi, espressione di UDC e Rialzati Abruzzo. Deve invece ancora pronunciarsi la componente di Sulmona Democratica degli ex DS. La riunione della prossima settimana è chiamata a sciogliere questo nodo per stabilire se i candidati saranno tre o quattro. Le incertezze da parte degli ex DS potrebbero indurre qualcuno della coalizione a non accettare ulteriori ritardi e a proporre di andare alle primarie solo con tre candidati. In attesa di ufficializzare le primarie il progetto del grande centro potrebbe assorbire anche i delusi del PDL per quel che rischia di diventare una cozzaglia di uomini e partiti di vario genere. Tra questi è il capogruppo del PDL donato di Cesare che potrebbe entrare a far parte della coalizione centrista. Eventuali decisioni saranno comunque prese dopo le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio che condizioneranno la scelta del candidato sindaco del centrodestra in caso di riuscita o meno della parlamentare uscente Paola Pelino.